Paganese e Ischia, le formazioni Paganese, Esposito, Magri, Esposito, Corcione, Carcione, Rosania, Sorbo, Kunzi, Guerri, Gurma, Deli, Bocchetti, Ischia, Giuliano, Florio, Patti, Filosa, Itzillo, Meduri, Armeno, Calamai, Orlando, Mancino, Canute, subito Paganese in avanti, blocca il portiere Giuliano. Ancora la Paganese, palla larga per Kunzi che controlla col petto, si accentra, bello il cross, Gurma di testa, mette la palla in rete, il numero 9 segna. 1-0 per la Paganese, ricordiamo le assenze per la Paganese, Caccavallo attaccante con 5 reti e Marruocco ex giallo-blu, rivediamo il cross di Kunzi, lo stacco e la palla all'incrocio dei pali. Fermo Giuliano, Ischia che prova a reagire, il portiere Esposito smanaccia, punizione per la Paganese dalla distanza, controlla bene Giuliano, il pallone termina a lato. Ischia in avanti, tiro dalla distanza da parte di Calamai di poco alto, poi un altro tiro sempre dalla distanza, l'Ischia ci prova da lontano. Canutè, salta l'uomo, mette una bella palla dentro, Orlando sul primo palo sbaglia, poi occasionissima per Gurma, bravissimo Giuliano e il pallone termina a lato. Secondo tempo, errore da parte del portiere Esposito, Canutè non ne approfitta. Siamo nella ripresa, Ischia in avanti, ancora un tiro dalla distanza, traversa da parte di Calamai, poi tiro alto da parte di Zillo. Ancora l'Ischia in avanti, palla dietro, Orlando segna, Ischia che giunge al pareggio con una bella reazione nella ripresa. Bravo Orlando a mettere la palla in rete, poi una dedica, vediamo il pallone ad Orlando che con l'interno destro mette sul palo lontano, 1-1. Tiro dalla distanza, facile la parata per il portiere Giuliano, ancora la Paganese che cerca di trovare la rete con Esposito, trova la traversa. Ancora Paganese in avanti, palla dentro, Ischia in sofferenza e il gol di Palomeche, 2-1 per la Paganese, l'esultanza dei tifosi. Rivediamo, colpo di testa, il numero 15, mette dentro Palomeche, reazione dell'Ischia, palla dentro, una respinta del portiere, poi il gol. Il gol di Zillo ci ha provato più volte a tirare, questa volta mette la palla nell'angolo, pareggio immediato dell'Ischia. Respinta, approssimativa da parte di Esposito e poi Zillo trova la rete. Siamo allo scadere, palla in aria, ancora gurma di testa. E la partita finisce 2-2 tra Paganese ed Ischia. Grazie. Grazie. Grazie a tutti